E' già da parecchi anni che qui al CPM c'è il Dipartimento di Basso. Siamo quattro insegnanti, io, Giulio Corini, Alberto Bollati e il responsabile Dino D'Autorio. E' stato proprio Dino a voler creare questo team di insegnanti proprio per rendere più coeso il Dipartimento di Basso. Questo ci permette di essere sempre sincronizzati e di poter seguire gli allievi in maniera coordinata. Io insegno nei primi due anni del corso di diploma e eventualmente in tutto quello che viene prima, lettura per il primo anno di corso BAC, che fino a qualche anno fa era il corso più completo all'interno della scuola, fino a quando non abbiamo avuto la certificazione per i corsi AFAM. E poi insegno il linguaggio blues tradizionale per i corsi BAC e AFAM. La nostra sede operativa è l'Aula 10, che vedete alle mie spalle, dove si tengono tutte le lezioni, sia individuali che collettive. Se volete affrontare un percorso esaustivo e completo sullo strumento basso, qui potete trovare non uno ma quattro insegnanti che vi aspettano all'interno dell'Aula 10. Ciao, a presto! A presto!